buongiorno oggi voglio farvi vedere come fare quest'altra presina alla forma di un gattino ed è molto molto semplice ho utilizzato due occhietti un uncinetto un filato di due colori uno di base adesso questa volta lo farò in grigio e le orecchiette il musetto lo farò in bianco e poi una gugliata per fare il fiocchetto io l'ho preso rosso ma voi potete farlo di qualsiasi colore allora cominciamo sto utilizzando il cotone fiocco e un uncinetto numero 2 voi potete utilizzare qualsiasi filato naturalmente se utilizzate un filato è un uncinetto più grande la presina verrà più grande iniziamo dal nostro solito anello magico facciamo il cerchietto in questo modo e blocchiamo il cerchietto con la nostra solita catenella eccola qui allora in questo anello magico allora dobbiamo lavorare adesso 15 maglie alte la prima la sostituiamo con tre catenelle quindi una l'ho già fatta ne faccio altre due ho fatto tre e questa è la mia prima maglia alta nel cerchietto continuerò a fare altre 14 maglie alte in tutto ne farò 15 continuerò fino a 15 ho fatto 15 maglie alte stringo il cerchietto e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio qui ecco fatto primo giro però il secondo giro il secondo giro sarà sempre a maglia alta perché la lavorazione del mio gattino è quasi tutta maglia alta tranne la rifinitura intorno quindi adesso rifaremo una due e tre catenelle che sostituiscono la prima paglia alta e in ogni maglia di base lavorerò due maglie alte quindi farò tutti aumenti da 15 avrò 30 maglie quindi una e due 3 e 4 nella seconda andiamo così fino ad avere 30 maglie ho fatto le mie 30 maglie e chiudo il giro sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella 123 dalla prima maglia alta ho chiuso fatto il secondo giro il terzo giro 123 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta ora lavorerò una maglia alta è un aumento quindi ho fatto la maglia alta adesso nella maglia successiva lavoro l'aumento 1 e 2 maglia alta in quella successiva e aumento nell'altra quindi tutto il giro sarà fatto da una maglia alta è un aumento avremo così 45 maglie facciamo tutto il giro ho finito anche il terzo giro chiudo sempre con la maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio ecco qui quarto giro sempre 3 catenelle adesso farò 2 maglie alte quindi questa è la prima un'altra maglia alta sono due maglie alte e nella terza maglia di base farò l'aumento quindi tutto il giro sarà fatto da due maglie alte e un aumento 12 maglie alte un aumento una due maglie alte nell'aumento così per tutto il giro ed avrò 60 maglie ci vediamo dopo ho fatto anche il quarto giro e chiudo lo stesso con la maglia bassissima facciamo il quinto giro 1 2 e 3 che è la prima maglia alta ora abbiamo fatto due maglie alte un aumento faremo tre maglie alto un aumento quindi una due maglie alte 3 maglie alte e l'aumento quindi ripeto una due maglie alte e l'aumento 1 e 2 nella stessa maglia farò questo per tutto il giro ed avrò 75 maglie a dopo ho finito anche il quinto giro adesso per chiudere faccio in questo modo siccome devo cambiare colore per chiudere faccio in questo modo taglio il filo ho fatto ultima maglia non faccio la maglia per chiudere il tirare il filo ma tiro direttamente il filo così prendo un ago infilo infilo il filo il filo nel lago in questo modo e guardate passo intorno alla terza catenella prendendo tutte e due le asoline vedete questa è la prima e quest'altra davanti e la seconda in questo modo in questo modo vedete faccio passare e rientro nella solina dell'ultima mia maglia che ho lavorato in questo modo e faccio proprio non so se si vede bene guardate una solina guardate come viene finito bene a questo punto dal dietro blocco il filo passando nelle maglie taglio il filo perché ormai è bloccato e taglio anche altro filo dietro dell'inizio ho fatto la base vedete ora facciamo le orecchie allora prendiamo il filo bianco e iniziamo con un punto qualsiasi ci agganciamo e facciamo la prima maglia bassa in questo punto catenella per bloccare e maglia bassa primo punto ora al giro precedente avevamo fatto tre maglie alte e un aumento adesso dovremmo fare quattro maglie alte e un aumento quindi lavoriamo una maglia bassa abbiamo fatto due maglie basse 3 maglie basse 4 maglie basse nella quinta facciamo l'aumento quindi sono 5 e 6 maglie base perché abbiamo fatto due nella quinta 7 maglie basse che 8 maglie basse avremmo dovuto utilizzare 7 maglie di base controlliamo 1 2 3 4 5 6 e 7 quindi ho 8 maglie di base 8 maglie basse 8 maglie basse lavorate su 7 maglie basse lavorate su 7 maglie basse giro il lavoro giro il lavoro e faccio una catenella per alzarmi e lavoro le mie 8 Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto maglie basse catenella per girare. Ora faccio due diminuzioni, una all'inizio e una alla fine, quindi la prima diminuzione faccio una e due e le lavoro insieme, poi faccio una, due, tre, quattro maglie normali, la penultima e l'ultima le lavoro insieme. Ho così sei maglie basse catenella per girare, un giro da sei. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Giro, catenella, diminuzione, una, una e due normali, penultima e ultima insieme. Catenella per girare, ho quattro maglie, una, due, tre e quattro maglie. Giro, una catenella e faccio due diminuzioni. Una e due, mi ritrovo con due maglie, una e due maglie al giro successivo. Giro di nuovo con una catenella e chiudo con una diminuzione, così è da avere una maglia. taglio il filo e ho fatto un orecchio. Vedete? Per fare, adesso togliamo questo filo che mi dà un po' fastidio. Adesso facciamo il secondo orecchio. Per fare il secondo orecchio lasciamo una, due, tre, quattro e cinque maglie. Partiamo dalla sesta qui. Ricominciamo facendo la catenella per bloccare e la maglia bassa. Come abbiamo fatto per l'altro orecchio, lavoriamo. Questa è la prima, quindi lavoriamo una, due, tre e quattro. Nella quinta facciamo l'aumento e poi due ancora, normale. Ho così uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Faccio la stessa cosa che ho fatto all'altro orecchio. A dopo. Allora, ho fatto anche il secondo orecchio e quindi adesso devo fare il bordo intorno intorno. Allora, il mio gattino è fatto semplice, quindi ha uno strato. Volendo però si può fare anche un'altra base come questa che abbiamo già fatto. mettere le due basi rovescio contro rovescio, questo modo, come se fossero così, e fare le rifiniture prendendo tutte e due, così si ha una presina più compatta. Se uno la vuole più compatta. A me non interessa da utilizzare solo per fare le prove, quindi l'ho fatta semplice. Però, volendo, potete fare sia questo che la galinela che avevo già fatto. Facendone due, mettendole una sull'altra, si riesce ad ottenere uno spessore più resistente, più alto. Adesso facciamo la rifinitura. Iniziamo qui da un angolo dell'orecchio, dal dritto naturalmente. Prendiamo il filato di base e partiamo proprio da qui, dall'angolo. Facciamo la nostra catenella e lavoriamo a maglia bassa intorno. quindi 1 2 3 4 5 vediamo, vedete, tutto intorno qui. 5 6 7 8 9 sulla cima ne facciamo 3, così possiamo anche girare e torniamo indietro dall'altro lato. Io, mentre lavoro, come vedete, sto nascondendo pure i fili, così poi posso tagliare tranquillamente. questo è bel boccato, quindi possiamo andare avanti, in questo modo. Nel filo bianco si può nascondere e adesso sono arrivata sulla parte qui, qui lavoro, quindi una sul grigio che già avevo sotto, una, due, tre, quattro e cinque. Adesso, volendo, possiamo fare la sola facendo una, due, tre volte il filo sull'uncinetto, giriamo il lavoro e facciamo partendo dalla, qui, dalla prima maglia che stava sul davanti, vedete, una tripla maglia. Quindi, una, due, tre e quattro, chiudiamo, rigiriamo il lavoro e continuiamo a lavorare tranquillamente. Vedete? Abbiamo fatto, adesso vi faccio vedere, anche l'asola. Per appenderlo. Se la volete più grande, l'asola, invece di fare una tripla, fate una quadrupla, quello che vi piace di più. E così, adesso continuiamo sull'altro orecchio, a trapucco. Ho fatto anche l'altro orecchio, adesso continuiamo a fare le rifiniture tutto intorno. Faccio due maglie basse sull'ultimo giro di maglie alte. Lascio una maglia e vado a lavorare nella seconda maglia a maglia alta facendo una, due, tre, quattro, cinque, e sei. Salto una e faccio due maglie basse, una e due. Sto facendo le guanciotte del gattino. Vedete? Queste. ho saltato due, ho fatto due maglie basse, scusate, salto ancora una e nell'altra vado a rifare una, due, tre, quattro, cinque, e sei. Salto una e lavoro a maglia bassa tutte le maglie, vedete, ho fatto le due guanciotte, fino ad arrivare alla stessa altezza da quest'altro lato. Mi devono rimanere le stesse maglie che ho utilizzato di qua. Continuiamo fino ad arrivare qui. Allora, sono arrivata alla stessa altezza di quest'altro lato, mi rimangono dieci maglie. Quindi salto una maglia di base e vado a lavorare in quella successiva. E faccio le mie sei maglie alte. Una, due, tre, quattro, una, cinque, e sei. Salto una di base e lavoro due maglie basse. Una, e due maglie basse. Salto una maglia di base e vado a lavorare di nuovo le mie sei. Una, due, scusate se è intrecciato il filo. Due, tre, quattro, cinque, e sei. Salto una maglia di base e faccio le ultime due maglie basse, come avevo fatto da quest'altra parte all'inizio. ora, con una maglia bassissima, mi aggancio e chiudo il lavoro. Poi fermerò il filo, naturalmente. Ecco qui. Vedete? Ho fatto la base del mio gattino. Allora, ora, qui, alla metà, in fondo, farò il collarino. Allora, farò il collarino, il collarino, cercate di trovare la metà del lavoro, in questo modo, e dovete lasciare le stesse maglie, sia da questa parte che dall'altra. Allora, prendiamo il filato bianco, io lascio dodici maglie, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici, inizio dalla tredicesima maglia e faccio in questo modo. Prendo il filo, così, una, due e tre, e la prima maglia. vado a lavorare nella seconda, due e tre maglie. Nella quarta faccio un aumento, una e due maglie. Faccio di nuovo una, due e tre maglie. Nella quarta faccio l'aumento e due ancora uno due e tre. Allora, controlliamo se mi rimangono dodici maglie, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici e dodici. Mi rimangono giusto dodici maglie e quindi posso chiudere il lavoro e poi fermo il filo naturalmente. Ecco qui. Adesso devo fare il musetto sempre col filato bianco. Lavoro i primi due giri, uno e due giri. dei primi due giri del lavoro che ho fatto all'inizio. Facciamo questi due giri, quindi anello magico, quindici, poi trenta, gli aumenti e poi dobbiamo fare un giro di maglie basse ma vi faccio vedere come fare. A dopo. Ho fatto il secondo giro, chiudo come sempre con la maglia bassissima qui sopra. Ora faccio un giro di maglie basse però devo fare gli aumenti quindi farò una catenella per alzarmi e farò una, due maglie basse e un aumento una e due una due maglie basse e un aumento per tutto il giro. Arriviamo alla fine e poi chiudiamo. Ho finito anche questo giro, taglio, tiro il filo e anche questa volta utilizzo l'ago per fare la chiusura. Vado invece qui alla mia mia la solina così rientro qui e chiudo facendo una solina in questo vedete che la chiusura è pulita poi nascondo dietro il filo in questo modo ed ecco un musetto ora non ci resta che ricamare col filato grigio il nasino i baffetti e il musetto io ricamo di solito prima di attaccare qui faccio il ricamo così i fili del ricamo che non sono puliti rimangono dentro e quindi non si vede allora io parto dal centro in questo in questo modo e vado prima in alto a fare questo pezzetto qui così uno vedete uno e due la stessa cosa faccio in basso proprio sulla metà del lavoro così contate bene se siete alla metà 1 2 3 4 5 6 7 e 8 quindi facciamo la metà e facciamo due volte anche qui vedete non so se si vede bene ecco qui ora andiamo lateralmente per fare la bocca quindi da questa parte un po è lo stesso la stessa distanza dall'altra parte così vedete da qui possiamo far partire anche i baffetti il primo lo facciamo qui un altro lo facciamo la centro e un altro lo facciamo più in alto vedete verso qui la stessa cosa andremo a fare dall'altro lato di qua allora ho fatto il secondo e faccio il terzo qui vedete ora non ci rimane che fare il musetto quindi dal centro facciamo due da destra e due a sinistra del centro quindi quattro in questo modo uno un po' un po' vedete e riempiamo tutto lo spessore del musetto con il ricamo se volete e avete un nasino di quelli già pronti di plastica potete anche mettere uno di quelli non è che siete costretti a ricamare per forza insomma fate come vi piace di più di più di più vedete fermate i fili sul retro anche senza rifinire perché questo andrà cucito vedete io adesso l'ho fatto in grigio però se a voi piace di più potete farlo il nero, il musetto, la bocca e poi basta fare una catenella e attaccarla qui una catenella col filato rosso o un altro colore come mi piace e attaccare un fiocchetto al centro mancano gli occhietti che andranno messi qua e il lavoro è finito spero di essere stata chiara ci sentiamo la prossima volta